Allora, allenamento odierno, President, esordienti pulcini, 1, 2, 3, 4 in fondo, 5, 6, 7, 8, 9, 10 stazioni con libera scelta ai mister come arrivano nelle due stazioni di prepararsi il lavoro che hanno programmato oggi quindi ci apprestiamo a lavorare, il campo è pronto con tutto il materiale già preparato lì in fondo, nell'angolo magazzino e quindi siamo pronti per questa bellissima giornata di lavoro con i nostri ragazzi degli esordienti e dei pulcini Ok, buona giornata, grazie President